Sì, ma diciamo che le cose possono andare in parallelo alla cosa che hanno fatto, noi abbiamo due persone che hanno fatto. Allora, abbiamo anche il nostro produttore di Porto, abbiamo anche... Noi non diciamo il fatto. E' un'altra cosa che mi ha detto prima. E' un po' di tempo, da quale c'era il donato. E' un po' di tempo. E' un po' di tempo. Il porto, uno sguardo, uno sguardo. E' un po' di tempo. E' un po' di tempo. E' un po' di tempo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.